A quasi un mese di distanza dal terribile incendio alla Galvanica a Formelli decadono parzialmente alcune misure precauzionali che erano contenute nell'ordinanza sindacale dello scorso 27 ottobre emessa dal sindaco Alessandro Ghinelli. Con la nuova ordinanza viene confermato soltanto il divieto di utilizzare a qualunque scopo, sempre nell'area compresa tra via Achille Grandi e Ponte Acchiani, le acque superficiali fin quando non perverranno i risultati delle ulteriori analisi. La decisione è stata resa possibile a seguito dei dati ricavati dai campioni di vegetali a foglia larga nell'area interessata dalle ricadute dell'incendio, suffragati dalle relazioni di Arpat e Asl. Via libera dunque al consumo di verdure e ortaggi coltivati in loco, gli animali non devono più restare in ambiente chiuso, i panni possono tornare ad essere estesi all'esterno delle abitazioni. Da segnalare che rimane invece in vigore l'ordinanza sindacale numero 39 che vieta l'utilizzo a qualunque scopo delle acque provenienti dai pozzi nella più ristretta area tra via Achille Grandi e il canale maestro della Chiana.